Ciao, oggi faremo un video bellissimo, faremo copia l'elemento, è un elemento di scioltezza che adesso vi farò vedere Voilà, benissimo, proviamo a fare questo elemento, ok, e chi lo fa meglio vince, va bene? Andiamo alla parallela Allora, la prima di eseguire questo elemento è Nicola, vai Michi Ma le mani, com'è che era? Ok Ok E vai a rivederlo? Emma, tu hai capito? Io in teoria sì, però non so se, non garantisco niente La teoria c'è, molto la pratica Io ho capito la tecnica, anche io la tecnica Sì, ha ragione, non va Ok Ok Vai a rivederlo ancora? Erika Prova Sì, piega un po' le braccia Vai, vai, brava Quasi, quasi, diciamo che fino adesso è quella che ci assomiglia di più Vediamo Camilla Vieni Franci, fammelo rivedere ancora Brava, brava Michi, giusto, giusto Michi Esatto, vai, piega un pochino le braccia Sì? Quasi Allora, aspetta Allora, guardiamo Eh sì, piega un po' le braccia Certo Ok Faddy L'avete rivisto voi? Guarda Guarda Poi piega le braccia Vediamo Vai, piega un po' le braccia E fai passare il bacino Le braccia sono più male No, mi spiace, non ce la facciamo Martina Vai, grande Martina Vai Marti Ok, vai, piega un po' le braccia Vai, 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 vai Niente, mi spiace Martina Tanto Guardiamo che Nicole sta provando Vai Secondo me l'Irene può farcela Brava Brava Ok, stop Marti Non mollate le mani Ok Facciamolo sullo stagio basso Va Vieni, facciamolo qua Allora, vediamo Brava Vai Brava 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 Letizia Bravissima Stendi le gambe Stendi le gambe Stendi le gambe Ok Bravissima Letizia Quando sei in quella posizione poi stendi le gambe e ti occhi un po' così Vediamo, Irene Brava Bravissima Brava Quasi Piega un po' le più le gambe Brava Stendi le gambe adesso Brava Dai Direi che per adesso siete a pari te la Letizia Vediamo Chi è che manca Nessuna Più hai fatto Sì Qualcuno vuole riprovare? Vai Erika Vai per il provo Quasi Brava Camilla Vai 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 Piega di più le braccia Vai 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 Ci sei? Ci sei? Quasi Va bene C'è qualcun altro che vuole riprovare? Marti Vai 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 Dai vai Sì Dai Prova Quasi Sì Michi ci riprova Brava Brava Alla velocità della luce però Vai brava Brava Stendi le gambe adesso Faddy Gli aiuti c'è la parte Anche lei C'è la sua tecnica Se la sono studiata No 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 basta È troppo difficile Non ce la fa Letizia Letizia Vai Bravissima Stendi le gambe Guarda qua davanti Letizia Dai dai Guarda qua davanti Guarda noi Guarda noi Guarda noi Stendi le gambe Adesso piegane una poi l'altra Piegane una poi l'altra Ire Brava E poi l'altra Brava Bravissima Bravissima Direi che la vincitrice è Irene Bravissima C'è qualcun altro che vuole riprovarlo? Io Marti Com'è che hai fatto tu senza la veloce? Non andare No Piega tanto le braccia No Piegale Dai Che cosa non fa? Guarda io direi Prima Irene Seconda e terza Per il merito Marti Letizia E Miki Va bene? Basta Vuoi fare un'altra volta? Basta Speriamo che questo video vi sia piaciuto Se non l'avete ancora fatto Iscrivetevi al canale E lasciate tanti like E ricordatevi di attivare la campanella Per non perdervi nessun nostro video Ciao 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 Ciao